Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino e code a tratti tra Firenze Sud e Incisare Gello. In A11 code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPI lì code per viabilità esterna che non riceve in uscita a San Mignato provenendo da Firenze. Rallentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Scandicci in direzione Firenze. A Firenze in via De Cerretani e via Panzani fino al 18 ottobre lavori di rimozione dei San Pietrini, risanamento e posa dell'asfalto architettonico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!